Torna il bello resta a Roseto degli Abruzzi, giunto alla sua seconda edizione. Evento per ricordare Flavia di Bonaventura, la studentessa e pittrice rosetana di 22 anni, scomparsa ad agosto 2023. Progetto promosso dall'Associazione Culturale Cielommi, con la collaborazione del Comune, Amici di Flavia e Roseto Art Lab. Edizione di quest'anno denominata Luce d'Ombre, con un'estemporanea di pittura ed un concorso fotografico, ed i vincitori verranno annunciati nel corso della serata finale del 28 luglio alla Villa Comunale. Seconda edizione che la città ha voluto, lo avevamo detto insieme all'Associazione Cielommi, che ringrazio insieme ai genitori, la famiglia di Flavia, che sarebbe stato un evento che la città avrebbe adottato, che sarebbe stato nel centro della città, che avrebbe portato arte, valori positivi, la solarità che Flavia sapeva vivere, sapeva essere. Quindi noi siamo veramente orgogliosi che il 27-28 luglio ci possa essere questa seconda edizione. Allora, Luce d'Ombre è un tema molto caro a Flavia, soprattutto nei suoi lavori emergeva la luce, ma anche un'ombra, c'era un qualcosa di scuro spesso nei suoi lavori. Quindi c'era questo dialogo tra questi due elementi, e abbiamo deciso di farlo diventare il tema di quest'anno, del Bello Rest. L'edizione del 2024, la seconda edizione, si terrà sempre a Roseto, per le vie del centro, e consisterà il 27 luglio in un'estemporanea di pittura, che partirà dalle 18.30 con base a Piazza Dante, mentre il 28 luglio ci sarà la premiazione davanti alla Villa Comunale, a partire dalle 21, dove verranno premiati i vincitori dell'estemporanea, i vincitori al concorso fotografico, e ci saranno delle esibizioni del gruppo locale degli Cigio X, e poi una serie di sorprese che vedrete alla serata.